Bentornati su MyFootballGersy. Con quello che mi resta della voce vi presento questa stupenda maglia speciale dell'Arsenal in edizione fan. Vi ricordo che l'edizione fan è quella un po' più comoda dedicata ai tifosi. Grazie a tutti. Maglia molto bella, particolare, sicuramente non una maglia da calcio come le altre, difatti è una collaborazione, una maglia speciale. Però è fatta molto bene e al costo che vedete qui sopra a mio avviso un affare imperdibile. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete le misure. Prima però vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale. È un piccolo gesto quello che dovete fare, ma ci aiuta a farvi vedere maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!